Papà, ma come facciano con le patrioni? Papà! Papà, ma facciano con le patrioni? Papà, ma facciano con le patrioni? Cioè, è buffo perché in realtà ti estrai, però ci sono i piedi della conciliazione. Perché lo dici? Poi funziona il cappello. Ho un cappello, ho proprio un cappello. E questo? Grazie. Guarda, ti dai. Il cappello. Questa. Tieni. Ah, grazie. Per sapere dove sono i prossimi appuntamenti, basta guardare sulla pagina. Va bene. Ormai ce l'ho detto, vai. Poi dopo l'ora, dopo il diamante... Tieni. Quindi... Tieni. 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 grazie